Un consiglio comunale di gran peso, quello di ieri a San Martino in Pensilis. Tra i diversi punti all'ordine del giorno, l'attenzione è stata posta ad una interrogazione urgente da parte della minoranza per chiedere al sindaco se fosse vero che l'amministrazione avesse assunto rapporti con la Granarolo sul progetto Granmanze che prevederebbe l'arrivo di ben 12.000 vacche in Molise. Il sindaco Massimo Caravatta ha confermato che ci sono stati dei contatti con la Granarolo, ma con loro non avrebbe avuto mai un incontro ufficiale. In sostanza, il sindaco di San Martino avrebbe dichiarato che la Granarolo è fortemente interessata ai terreni di San Martino, considerandoli quelli più idonei per i propri scopi. L'amministrazione sarebbe dunque propensa ad aprire le porte a questa grande azienda, ma prima di farlo vorrebbe innanzitutto capire di cosa ti tratta e se, effettivamente, potrebbe arrecare un vantaggio per il territorio. L'amministrazione intende capire in termini precisi di cosa realmente si parla quando si accena ad un ritorno occupazionale e poi ancora ci si chiede che fine farà il letame e come e dove verrà presa l'acqua che verrà utilizzata. Per le lungaggini derivate dalla voglia di voler conoscere interamente il progetto da parte dell'amministrazione di San Martino, la Granarolo avrebbe tessuto dei contatti anche con l'amministrazione di Larino, fermo restando però sul territorio di San Martino, che sarebbe il meglio preposto all'accoglienza delle manze. A prendere parte come pubblico al Consiglio Comunale a San Martino c'era anche l'assessore Vittorino Facciolla.